Tanti ospiti oggi con interventi veramente molto interessanti. Un dato di fatto, almeno fino ad ora le interviste sono state tante, ma non ancora abbastanza. Comunque un elemento di fatto è quello che tutti a livello medico e sociologico considerano comunque l'anziano, cosiddetto di oggi qualcuno rifiuta il termine terza età, come una vera e propria risorsa. Però ecco, questa risorsa ha bisogno di attenzioni, come tutte le fasce di età. Allora, per quanto riguarda per esempio gli studi farmacologici, a che punto stiamo? Ecco, qual è la situazione? Perché mi ha spiegato nella nostra chiacchierata informale che il suo intervento verterà in particolar modo su queste argomentazioni. Purtroppo la situazione è ancora a molti limiti, in quanto gli anziani sono stati sistematicamente esclusi dai trial clinici di validazione dell'efficacia e della sicurezza dei farmaci e questa situazione perdura a tutt'oggi. Allora, se lei dovesse inquadrarmi oggi, una persona anziana, che caratteristiche mi darebbe dal punto di vista medico? Chi è? Che cosa fa l'anziano oggi? Soprattutto in che stato di salute? Eh, parliamo dell'Italia naturalmente e comunque dei pazienti che lei può vedere, che ha modo di vedere. Diciamo che la popolazione anziana è una popolazione estremamente eterogenea, per cui dare un indicatore medio è alquanto difficile. Noi sappiamo che oggi si vive più a lungo e si invecchia meglio, per cui la soglia dei 65 anni sicuramente non la consideriamo più adeguata. 75-80 anni comincia a essere una soglia in cui l'invecchiamento sicuramente produce degli effetti. Pur con il fatto che molte persone comunque arrivano anche oltre a questa età, stando bene, essendo autonomi, essendo cognitivamente integri, ce n'è poi una porzione che invece sviluppa molte malattie, diventa disabile e fragile. In questa popolazione in particolare ci vuole un'attenzione particolare perché altrimenti la loro richiesta sia di interventi sanitari che di interventi assistenziali è altissima e è destinata a pesare su tutta la società. Molto bene, sento in lontananza la voce della dottoressa Gnanone che sta introducendo il nostro convegno, quindi noi ci congediamo e andiamo a riprendere nell'altra sala. Grazie.